eccoci live anche questo sabato mattina per chi ci ascolta live come Alessandro e gli altri, grazie mille questa è la rielaborazione di una presentazione che ho fatto due o tre giorni fa nel contesto di una giornata di studio sulla radioprotrezione nello spazio era un incontro formativo organizzato poi da Alessandro Rizzo che è stato ospite delle nostre live qualche settimana fa e con lui abbiamo parlato della radiazione spaziale e prima ancora delle centrali nucleari anche nel contesto del conflitto ucraina-russia era un incontro formativo sulla protezione radiologica nell'ambito spaziale nell'era dell'emissione dello spazio profondo cioè voleva mettere insieme fisici, biologi, medici chi lavora nel contesto dell'ambiente spaziale sia dal punto di vista strumentale che biologico che medico in cui volendo tornare sulla Luna andando su Marte per permanenze più a lungo e oltre appunto l'ordine della sezione spaziale internazionale che è molto bassa si deve capire come ottenere l'uomo vivo non fa gli insorgere problemi tumore e così via quindi c'è stato uno spostamento di sede è stato abbastanza complicato non è stato possibile registrarla io avevo provato a registrarmi ma l'audio era pessimo quindi ho detto vabbè rifacciamola magari espandendola un po' di più in due parti come quella della volta scorsa sulla simulazione dell'universo oggi e domani alle 9.15 quindi sabbara e domenica molto più in esteso c'è il corso di Space Instruments ma insomma quelle sono ore e ore questa è la versione condensata e appunto nella giornata nella parte di oggi facciamo elementi e strumenti di volo spaziale e domani faremo più la parte di radiazione spaziale il punto essenziale che bisogna sempre ricordarsi è che purtroppo noi non abbiamo l'antigravità non abbiamo la repulsione tutto si basa su meccanica newtoniana quindi di nuovo va ribadito che noi andiamo in orbita facciamo razzi, sonde quello che volete sulla base anche perché non ci sono alternative di una fisica che è vecchia di grosso modo 400 anni sì anche un po' di più di 400 anni Newton per primo disse vabbè ma se io lancio da una montagna abbastanza alta con un cannone via via che aumento la spinta alla forza del cannone la gittata sarà sempre più lontana sempre più lontana finché poi cadrà tra virgolette oltre l'orizzonte o in altre parole entrerà in orbita perché la forza centrifuga equipara e annulla quella gravitazionale quindi può sapere varie orbite vedremo poi però il trucchetto è che bisogna cambiare orbita altrimenti si ripassa sul ciclo della montagna e ci si ammazza da soli però questa azione e reazione è il principio di base questo il vincolo essenziale di azione e reazione come principio base è stato canonizzato da Konstantin Zolkowski lui era un maestro degli elementari nella Russia appunto a cavallo tra il XIX e il XX secolo questa è una sua statua al museo di energia a Star City a Mosca dove c'è tutta anche la tutta l'immensa industria di energia dove costruiscono razzi fanno varie strumenti noi abbiamo fatto l'integrazione dei vari test dei nostri strumenti quello che c'è dietro la statua a parte i memorabilia e le foto c'è questa equazione qui che è l'equazione di Zolkowski che è quella che regola tutti i razzi proprio perché viene dall'azione e reazione essenzialmente l'equazione dei razzi dice che se voi volete andare verso l'alto dovete spingere il materiale verso il basso e la vostra variazione di velocità quindi la velocità finale quindi voi partite da fermi o con la rotazione terrestre e volete andare a una velocità maggiore per poi non ricadere come il cannone di Newton dipende sì dalla velocità con cui esplete il gas e quindi di solito si fa una reazione chimica anche se appunto quelle nucleari sarebbero molto più efficienti quindi più forte spingete il gas e meglio è ma la fregatura sta in questo logaritmo cioè il logaritmo del rapporto delle masse vi vincola sulla velocità finale ossia se voi avete una massa iniziale e una massa questo è il logaritmo naturale ma facciamo finta che è base 10 se la massa iniziale è 100 volte quella finale questo logaritmo vi dà un fattore 2 quindi essenzialmente è il motivo per cui questo razzo che è il Saturno 5 è così alto e deve buttare via tutta questa massa a parte il contenitore i primi stati per mandare in orbita questo oggetto così piccolo perché appunto quello che conta non è il rapporto delle masse ma il logaritmo del rapporto delle masse ossia la differenza degli esponenti e quindi rimaniamo fregati così dobbiamo costruire le razioni e o spellere carburanti in maniera più velocemente possibile l'altra sottigliezza che vale la pena di ricordare e che sta sempre nel primo disegno di Newton è che in realtà in orbita bassa quello che consuma energia quello che richiede energia non è tanto andare a 400 km come appunto è la stazione spaziale o 600 km ma avere la velocità orizzontale per evitare di ricadere io posso andare a 400 500 1000 2000 km di missili balistici intercontinentali anche quelli lanciati alla Corea possono andare in alto quanto volete ma se non c'è una velocità iniziale una velocità orizzontale abbastanza elevata quelli ricadono giù come come stassi il conto è molto semplice ma non ve lo sto a tediare ma essenzialmente viene viene che per la vita bassa vi richiede richiedete 20 volte l'energia cinetica rispetto a quella potenziale cioè per andare a 400 km vi serve uno per andare con una velocità orizzontale per non ricadere vi serve 20 e questo essenzialmente è dato dal fatto che il rapporto tra l'energia appunto potenziale cinetica è due volte l'altezza a cui andate rispetto al raggio terrestre quindi se state a 600 km rispetto a 6.380 km del raggio terrestre questo qui vi viene 20 e quindi un ventesimo anzi e quindi dovete andare in orizzontale anzi scusate questo qui è la traiettoria del razzo ciao Davide cioè voi lanciate ma subito il razzo piega perché in realtà i motori non devono servire tanto per andare in alto sì anche quello ma soprattutto per andare con velocità orizzontale se andate in orbita geostazionaria che per definizione è un'orbita che si muove alla stessa velocità di rotazione della terra all'equatore invece no e quindi andate più o meno dritto per dritto ovviamente vi serve più energia perché dovete andare in alto e in questo caso è l'energia potenziale che deve vincere che deve essere utilizzata per cioè che deve essere incrementata con la vostra spinta dei razzi e qui per esempio vedete un razzo in orbita geostazionaria più o meno va dritto per dritto i voli suborbitali prima di questo ce ne sono stati tantissimi si parte dagli anni sessanta anche un po' prima degli anni sessanta il primo volo suborbitale fu l'X15 vedete ali piccolissime perché tanto l'atmosfera non c'ha supporto essenzialmente un razzo con un aereo che però ha dei motori a razzo Joseph Walker va questo volo 11 minuti apogeo 107 km quindi supera questa linea ideale che è la linea di Kalman che però non c'è nulla di preciso essenzialmente dove cambia l'atmosfera gli americani ce l'hanno anche più in basso e quindi si freggia del titolo di astronauta anche questi con i voli suborbitali adesso stanno cambiando la nomenclatura ma insomma se volete il primo volo suborbitale effettuato e di questi ce ne sono stati tanti in realtà anche le V2 qui non si vede bene questa qui è una slide di Wikipedia le V2 su una traiettoria a lungo rangio arrivavano a varie decine di chilometri poi ricadevano e poi appunto come si sa con la fine della seconda guerra mondiale o comunque nella fine della seconda guerra mondiale russi e americani si spartirono la tecnologia e gli scienziati nazisti tedeschi e von Braun fu quello che poi andò a fare il Saturno 5 e tutto il volo il programma spaziale americano però voli suborbitali sono semplici perché appunto vi serve molta meno energia andate in alto e poi ricadete a terra ci sono quelle famose delle Spaceship One e l'evoluzione Spaceship Two essenzialmente un aereo che porta questo razzetto fino a 15 km appunto accende il razzo con i turisti va in alto e poi ricade giù in maniera non distruttiva c'è stato un incidente ma essenzialmente le altezze sono vedete 100 110 100 qualcosa km il New Shepard su cui è andato anche il capitano Kirk è arrivato fino a 115 km ma si tratta di 3 minuti perché ovviamente è il sasso se fate l'altezza di 100 km a un mezzo mv quadro vi viene fuori 3 minuti e questo è appunto la Karmann Line a 100 km mentre quello che viene definito spaziale per gli Stati Uniti è 80 km ma appunto sono solo sottigliezze nulla di rilevanti dal punto di vista fisico quindi 100 km ma 3 minuti 300.000 euro vi vendete casa come avete visto i prezzi adesso va molto di modo il turismo spaziale ed è un'ottima cosa appunto per rilanciare l'esplorazione dello spazio e la tecnologia spaziale il titolo originale appunto si agganciava allo spazio profondo in relazione al fatto di tornare sulla Luna e andare su Marte in realtà lo spazio è poco profondo anche questo viene da Wikipedia ed è in scala è importante rendersi conto delle scale in gioco questa è la Terra con un diametro di 12.000 km il raggio 6.380 km tutta l'attività sia dei satelliti senza uomo e con equipaggio si svolge a 400-500 km con l'eccezione ovviamente delle missioni Apollo quindi tutta l'esplorazione umana dello spazio a parte le Apollo è stata non oltre i 600 km quindi 600 km è un decimo del raggio terrestre quindi questa è la scala qui abbiamo non si vede ma insomma questa qui è più o meno all'altezza dei GPS che sono a 22.000 km e qui è l'altezza dell'orbita geostazionaria a 36.000 km ossia a 3 diametri terrestri quindi 3 volte la Terra è dove sono i satelliti dell'orbita geostazionaria ovviamente sonde macchinette droni quello che volete costa molto di meno e si mandano tranquillamente anche oltre putrone sia dalle Voyager che la New Horizon e così via ma per mandare l'uomo è molto più complicato e appunto l'ultima volta che l'uomo è stato oltre i 600 km è stato nel 72 e da allora non ci siamo più tornati speriamo di tornarci presto quindi lo spazio più profondo è questo sempre in scala questa qui questi qui sono i 36.000 km dell'orbita geostazionaria questi sono i 384.000 km della distanza della Luna quindi c'è veramente un abisso sia metaforico che fisico per andare dalla Terra alla Luna alla Gilles Verne e oltre perché appunto le distanze sono molto elevate in caso di problemi come si è visto nell'Apollo 13 tornare e salvare l'equipaggio è molto molto complicato in più il tema di questa giornata di studio era la questione radiazione cioè l'incidente uno fa di tutto per evitarlo ma noi sappiamo che lo spazio radioattivo che vi è radiazione spaziale ovunque di origine o intrappolata nelle fasce di Van Allen lo vedremo domani o galattica che viene dalla galassia appunto se no galattica o di origine solare nelle eruzioni solari quindi se io sto fuori dal campo geomagnetico che mi protegge devo capire come proteggere i miei astronauti non è per niente per niente semplice quali sono gli altri punti interessanti e di rilevanza per lo studio delle orbite per piazzare stazioni spaziali strumenti e così via l'altro punto l'altra regione in cui si possono fare cose mettere sonde stazionare oggetti sono i punti di Lagrange Lagrange nasce Lagrange a Torino è uno dei tantissimi esempi ma insomma si risale prima anche al Medioevo anche ai Romani di fuga dei cervelli appunto va a Parigi per trovare fortuna comincia a lavorare come professore a 19 anni comunque alla scuola di Torino di artiglieria appunto però poi va a Parigi essenzialmente e i punti di Lagrange sono dei punti definiti da un sistema a tre corpi il mio satellite e la mia astronave e i miei astronauti sono il terzo corpo e i due corpi principali possono essere o il sistema Terra-Luna o il sistema Sole-Terra e sono dei punti di equilibrio in cui le forze si compensano e quindi posso stare più o meno in equilibrio stabile in realtà il più o meno è perché in realtà l'equilibrio non è stabile è instabile si dimostra che tutti i campi che vanno come uno su R quadro quindi il campo gravitazionale la cui forza di attrazione diminuisce col quadrato della distanza ma anche il campo magnetico e il campo elettrostatico sono tutti instabili per definizione c'è un torema e quindi in realtà i punti di Lagrange sono tutti instabili cioè sono o in cima a una collinetta queste sono le frecce che ti indicano dove vai a cadere in queste curve di livello quindi i punti L4 e L5 sono ampi una ampia collina ma se mi muovo dal punto di equilibrio cado o instabili in una direzione e stabili lungo l'altra quindi stabili lungo questa direzione rossa il punto di sella quindi come due grosse o cuspidi oppure montagne al contrario e quindi io cado verso il sole o cado verso la terra se mi avvicino quindi sono punti instabili niente di male però vuol dire che le orbite devono essere sempre comunque corrette con piccole correzioni di carburante o comunque con delle orbite dinamiche che se volete se avete visto questi oggetti che fanno galleggiare la macchina di ritorno al futuro su campi magnetici sono comunque controllati in maniera dinamica e quindi se l'orbita è dinamica si può mettere satelliti quanti ne volete quindi ce ne sono tantissimi a seconda di quello che uno vuole andare a studiare c'è il punto L1 tra la terra e il sole qui c'è la luna a 384 mila chilometri il sole sta a 148 49 milioni di chilometri quindi parliamo anche di ordini di grandezza oltre alla luna il punto di Lagrange se non ricordo male è un milione e mezzo di chilometri dalla terra quindi questo non è in scala e qui ci si mettono tutti quelli che studiano il sole lo space weather quindi ad esempio ACE che studia tutta l'attività solare le eruzioni solari SOO e così via e questo è un punto dove si può stare per decine di anni consumando pochissimo carburante però se volete è più o meno al caldo è più soggetto all'attività solare dall'altra parte siamo sì soggetti all'attività solare ma comunque è lontano dalla terra poco più lontano dal sole auspicabilmente nella zona meno colpita dall'attività solare anche se c'è una eruzione solare ci se la beccano tutti e quindi Planck Herschel James Webb Space Telescope e così via sono tutti in orbita qui intorno e James Webb anche qui intorno dopo un'orbita molto molto complicata che l'ha portata le future missioni sulla luna prevedono di avere una stazione spaziale orbitante attorno alla luna ma con un'orbita molto particolare Gateway quindi una stazione spaziale che orbita attorno alla luna e che favorisce l'andata e ritorno degli astronauti da e per la terra e da e per le basi lunare cioè non decollare come il Saturno 5 o meglio come il Lunar Extortion Module che decolla e poi ritorna con l'Apollo ma avere uno stop intermedio anche lì visto che siamo fuori del campo geomagnetico diventa complicato poi proteggere gli astronauti se ritorniamo però al disegno originale di Newton l'altro elemento essenziale del volo spaziale è quello delle manovre orbitali cioè voi non potete vedete siccome il campo è conservativo se voi lanciate un oggetto dalla montagna l'orbita può essere circolare ellittica quello che volete a meno che non è una velocità di fuga e quindi lascia il sistema solare e poi finisce lì ma insomma se è un solo oggetto quindi non ci sono multicorpi come Potti Lagrange ritornate al punto di partenza perché a parte si conserva l'energia si conserva lo spazio delle fasi quello che volete ma insomma potete andare quanto lontano volete ma se non correggete l'orbita se non avete dei ranzi che correggono l'orbita siete costretti e vincolati a tornare al punto di partenza e quindi è necessario avere dei ranzi intermedi che possano fare trasferimento orbitale e velocità di fuga se chi ricorda dalla Terra alla Luna loro sparavano con questo cannone al fulmicotone verso la Luna a parte che le accelerazioni sarebbero state troppo forti avrebbero ucciso la gente dice il verbo va benissimo però l'altro punto essenziale è che servono delle correzioni di rotte intermedie per poi lasciare l'orbita terrestre e immettersi nell'orbita nonare ci sono tantissime orbite c'è tutta una matematica dedicata a queste cose qui il trasferimento orbitale più semplice per chi gioca anche a Kerbal Space Program è l'Oman Transfer Orbit il trasferimento di Oman essenzialmente dice io parto da un'orbita circolare accendo i miei motori a una certa circolare quindi quando voglio aumento la mia velocità mi metto in un'orbita ellittica se non faccio niente posso stare in questa orbita ellittica per sempre salvo perturbazioni delle mie orbite però quando arrivo quando sto comodo e sto al perigeo riaccendo nuovamente i miei motori e mi rimetto in un'orbita circolare più alta o viceversa da un'orbita più alta posso scendere i due trasferimenti sono cotangenti quindi si dimostra che questo tipo di trasferimenti orbitari è quello che consuma meno carburante e quello più efficiente e appunto con questi ci si può immettere anche direttamente però ci si immette con una velocità di fuga se io per esempio sto in un'orbita bassa ho già speso i miei 7 km al secondo per essermi immesso diciamo col primo stadio del Saturno 5 o con la Speci o chi volete in un'orbita bassa accendo i motori della mia capsula richiedo 3,20 km me ne vado più in alto ad esempio in orbita geostazionaria e qui però per stabilizzare la mia orbita e pormi in orbita geostazionaria mi serve un km e 46 e ovviamente se dovessi andare sulla Luna non faccio questo lavoro qua andrei in orbita circolare bassa e poi verso la Luna le orbite di trasferimento sono tantissime dipende da che cosa avete se avete equipaggio umano in teoria voi vorreste risparmiare il più possibile il tempo e ridurre la permanenza nello spazio e quindi magari l'ideale sarebbe una high transfer ciao Alessandro una high transfer orbit in cui appunto non siete cotangenti come il transfer di Oman ciao Bori Satova quindi questo qui è quello che vi ho fatto vedere prima questo qui è inclinato quindi spendete molta più energia perché dovete anche cambiare l'angolo del vettore velocità mentre qui accendete solo i motori e tutti non cambiate la direzione in cui state andando qui invece dovete anche cambiare la direzione però se aveste dei motori eccezionali efficienti nucleari ad esempio si può fare questo con un motore chimico a basso a potenza sono tante 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 trasferimenti di Oman in cui vi mettete via via a gradini di questa scala sempre più alti finché poi non è arrivata all'orbita che volete però ci vuole più tempo e ancora più tempo ci vuole per la produzione elettrica estremamente efficiente ad esempio il motore a ioni espellete ioni alla velocità della luce però è uno ione può essere uno ione pesante ne è un ferro quello che volete ma insomma quello che voi avete se tenete sempre acceso il motore a ioni è una orbita spiraleggiante tipo lo zampirone però ci mette in un sacco di tempo e quindi per gli astronauti queste due non sono assolutamente ideali questa sarebbe ideale ma richiede troppo carburante e quindi poi alla fine si va su variazioni sul tema dell'Oman transfer e questo è quello che si prevede di fare per andare su Marte probabilmente quando c'è il massimo solare perché così l'attività dei raggi cosmici è minore perché sono raggi cosmici galattici sono deflessi dal vento solare ma lo vedremo domani l'Oman transfer orbit partenza quando tutte le stelle sono allineate all'allopera su me i pianeti sono in maniera che io posso mettermi nell'Oman transfer orbit iniziale e ellittica verso Marte un delta V da parte della Terra che c'è a 32 km al secondo metto un delta V di 2-3 km al secondo per avere questo trasferimento arrivo su Marte a 21 perché sono salito nel pozzo gravitazionale devo spendere altri 2 e mezzo per immettermi in orbita marziale 2 correzioni di rotta per questo che poi quando si fa vedere la perché non si muove questo ma comunque eccolo qua quando si fa vedere l'orbita della Tesla lanciata col Falcon X è molto bello molto divertente io come battuta ma fino a un certo punto continua a pensare che dentro Spaceman ci sia il cadavere di qualcuno di cui Elon Musk si è voluto liberare ma non è arriva su Marte arriva oltre Marte ma non va in orbita marziale proprio perché la prima e ultima accensione di trasferimento è stata fatta intorno alla Terra che è qui e quindi avete questa orbita ellittica che la riporterà a una unità astronomica ovviamente la Terra non sarà lì non ci sarà una collisione supera l'orbita di Marte ma certo non va in orbita marziale ma va bene così è molto bello quello che stanno facendo almeno per la SpaceX Twitter è un po' più discutibile veniamo all'uomo dello spazio vostro Q1 avevamo già avuto lo Sputnik nel 57 e 4 anni dopo che è pochissimo se ci pensate da un satellitino grande come un pallone da calcio arriviamo a Gagarin lanciato il 12 aprile del 61 posto Q1 lanciato a Gagarin Schistart lo stesso rampa di lancio che al tempo ce n'era una sola da cui aveva lanciato anche lo Sputnik ma questo qui sulla destra è Korolev e il Von Braun russo è una persona eccezionale un genio dell'astronautica era stato anche internato nei Gulag di Stalin perché denunciato da un collega qui lo vediamo di fronte a Gagarin proprio il suo storico volo poi morì nel 66 se non sbaglio e quindi questo poi fu una delle cause per cui il programma sovietico non riuscì mai a raggiungere sulla Luna e questo è il cosmotromo di Baikonur visto dall'alto è in Kazakistan adesso è ex Unione Sovietica è ex Unione Sovietica questi edifici sono ancora utilizzati per i voli verso la stazione spaziale e va ribadito che ancora adesso c'è una piena qualità collaborazione tra Russia e Stati Uniti sulla stazione spaziale un astronauta ciao Michele Sessa un astronauta è andato con la Russo è andato con la Dragon e viceversa uno è stato lanciato con la Sayus sulla stazione spaziale e questo è un'ottima cosa che si continua a collaborare anche il nostro esperimento minioso continua ad andare avanti sulla stazione spaziale senza problemi è anche legato al fatto che essendoci una stazione spaziale cinese nessuno di Russia e America può permettersi poi di lasciare la Cina con un unico avamposto in orbita bassa alla Cina e quindi la stazione spaziale continuerà ad andare avanti è stata prolungata queste qui erano le vecchie rampe di lancio per le missioni lunari per l'N1 riconvertite al Buran qui dentro c'era il sistema di vibrazione per Buran e questa era la sala controllo di Buran ma appunto questi edifici dove abbiamo integrato Pamela Lazio Sirad sono state tante volte anche l'ultima volta è stata nel 2019 appunto per Minios e qui è dove ci sono gli alloggi gli alberghi e si va verso Gaganisky Start che è poco più sull'adesso ci serve a piedi questo è Gaganisky Start nel 2006 quando lanciamo Pamela notate che non c'è la torre di espulsione di salvataggio degli astronauti che identifica se appunto le Sayuts che i razzi sono praticamente identici sono con equipaggio umano o sono razzi o cargo verso la stazione spaziale o razzi che rimangono lì di satelliti appunto come Pamela notate la profonda scavo ai soldati che scavavano negli anni 50 gli si era detto che era una piscina adesso questo è stato dismesso ma pochi anni fa però ha fatto più di 700 lanci appunto incluso Pamela e altri lanci questo è appunto il coro il padre della cosmonautica sovietica morì molto giovane per un'operazione che andò male ma insomma furono anche gli effetti di essere stato internato l'altro elemento essenziale se uno vuole andare nello spazio e fare queste attività è la passeggiata spaziale quindi Alexei Elionov il primo queste sono sue pitture con la Bosco 2 due persone rischiò di morire quando uscì l'astuta si confiò uscì da questa specie di tubo appunto vediamo se c'è un'altra foto ecco qui si vede meglio questa è la Bosco si apre questo tubo lui uscì in questa specie di tubo flessibile ma non si aveva assolutamente idea che la tuta si sarebbe gonfiata il suo compagno di volo aveva il cuore i battiti del cuore a 220 pulsazioni lui ebbe la protezza di spirito di far uscire l'area sgonfiare in qualche maniera trornare ma è quello che vi dice l'eccezionalità di queste persone che ti salvano una missione non solo salvano loro stessi ma anche tutto il programma lo stesso che poi fece Parmitano sulla stazione spaziale non debbe problemi con la sua tuta questa è l'Apolo Sayus sempre dipinta da Leonov nel 72 l'altro elemento sono l'attracco di mezzi spaziali vari tentativi nel 65 e 66 con gli Stati Uniti è complicato perché dovete avere due oggetti che siano con un assetto costante dovete attraccare e così via ma insomma adesso si fa ma è l'elemento essenziale perché dovete costruire gli oggetti tipo Lego soprattutto se non avete dei lanciatori più come il Saturno 5 ma uno aveva lo shuttle che è un oggetto molto più scarso del Saturno 5 Artemis è ancora in Fieri quindi dovete costruire in ogni caso dovete costruire l'agganciata e anche aveste la stazione spaziale più grande del mondo dovete mandare i vostri astronauti per attraccare nel 67 il primo attracco automatico tra due Cosmos vedete qui il francobolo mostra come un primo Cosmos era già in orbita viene raggiunto da un secondo Cosmos il 188 che si aggancia attracco automatico fondamentale anche per costruire le stazioni spaziali e poi attracco con i due bandi nel 69 Sayuz 4 e 5 questo tra l'altro il 5 rientrò in maniera molto brusca perché andò nel verso opposto non si erano sganciati i pezzi poi si sganciò tutto ma insomma l'urto finale fu molto molto forte e voglio credo che poi non poteva più volare non ebbe effetti cioè ebbe effetti permanenti ma non gravissimi ma insomma fu abbastanza pesante ma si salvò va ricordato però che i sovietici russi ve lo che volete ebbero quattro morti in due incidenti nello spazio prima con la prima Sayuz e poi con la Sayuz 1 Sayuz 11 con un attracco la prima Sayuz fu un disastro e appunto Kamarov si schiantò al suolo e fu una cosa di aveva più di 300 errori ma insomma lì era la politica sovietica che ordinò a tutti i costi di fare questo lancio infatti appunto lui non poteva sopravvivere non poteva neanche rifiutarsi perché sarebbe andato il vice e quindi insomma si sacrificò questi tre cosmonauti pazzai vedo vallovski volkov invece morirono asfissiati andò tutto bene ma una delle iridi che dovevano chiudere l'aria dei boccaporti non si chiuse e asfissiare non riuscirono a chiuderla a mano quindi in tempo tornarono a terra perfettamente ma appunto è vero non riuscirono a sopravvivere quattro morti nello spazio non è una gara assolutamente però un confronto di quanto è rischioso il volo spaziale contro i quattordici 7 più 7 americani nei due incidenti dello shuttle c'è da dire che a terra gli americani persero tre persone in quella che poi fu richiamata pollo 1 in un incendio della prima capsula a terra e i russi più di 200 in 3 o 4 grossi incidenti 2 a Baikon e 1 a Pleisesk perché in quel caso veramente ignoravano le norme più base di sicurezza cercate l'incidente di Netherlin è una cosa abbastanza atroce elemento finale stazioni spaziali questa è la Mir dovete costruire i vostri moduli con l'attacco qui c'è il nodo centrale su cui avete il vostro snodo dell'ego la Mir nasce dalle Sayus che nasce dall'Almaz che è il diamante che era una stazione militare cioè le prime stazioni spaziali in orbita attorno alla terra erano sovietiche e militari per l'osservazione della terra c'era tutta un'evoluzione di questi oggetti qui lanciati col proton che ancora adesso viene utilizzato si vuole sostituire con con il col con l'angara però è per voli unmanned perché il carburante non è è un po' tossico quindi è meglio non lanciarci gente 20-25 tonnellate di payload quindi della stazione spaziale gli astronauti andavano in cosmonauti andavano su e devono fare osservazioni sul nemico americano ogni volta che passavano i 90 minuti quindi non dormivano era abbastanza un disastro come psicologia e quindi poi si passò ai cosmos a oggetti in orbita più bassa che facevano le foto e fisicamente sganciavano il rullino sulla Russia veniva recuperata però queste ALMAZ si evolvono in quella che poi viene chiamata salute 3 e quindi vedete che questo elemento qui è quello base che si trova in tutte le stazioni spaziali appunto le salute che è questa qui salute 4 che è civile viene chiamata una stazione spaziale civile con l'attracco con l'attracco con l'attracco gli astronauti cosmonauti sono qui questo è il modulo abitativo questo è l'attracco e qui è dove loro lavorano va citata al volo la salute 7 che è l'unico esempio di trasferimento da stazione spaziale salute 7 a stazione spaziale ossia la mir che anche a sua volta questi elementi si volevano fare oggetti più grandi come l'MBK7 che aveva al suo estremo un reattore nucleare quindi niente pannelli sorari ma insomma reattore nucleare ruotava e quindi aveva un modulo con gravità artificiale ma anche questo doveva essere lanciato né con l'N1 che era il razzo per la luna che fu cancellato perché cancellando il razzo sulla luna anzi disse no ma noi non ci volevamo mai andare non fu possibile sarebbe stata 250 tonnellate rispetto alle 20 di un modulo Saliut Saliut scusate però io come amo ripetere la Skylab è l'unica vera stazione spaziale è fatta era fatta con il terzo stadio del Saturno 5 recuperato e modificato con un telescopio per studiare il sole utilizzato con un Apollo modificato con la capsula Apollo che attraccava questo qui fu lanciata nell'inizio anni 70 cadde perché lo Space Shuttle non c'era per rialzare l'orbita ma poteva essere rialzata con altri due Saturno 5 che sono nei musei se uno avesse lanciato altri due di questi con il Saturno 5 che sono al museo si avrebbe avuto più o meno lo stesso volume abitabile della stazione spaziale internazionale perché è vero che è molto grande è vero che è grande quanto un campo di calcio ma resta il fatto che la stazione il volume abitabile dello Skylab era un terzo di quello della stazione spaziale internazionale poi meno strumenti quello che volete però vedete questo è un oggetto degno di nota cioè il terzo stadio che invece di mandare la gente sulla luna vedete le persone quanto sono piccole era abitabile e questo vedete queste sono le persone all'interno certo magari lo spazio non è ottimizzato ma non è così angusto come quello della stazione spaziale internazionale poi benvenga la stazione spaziale internazionale la parleremo a questo punto domani siamo già a mezz'ora ma insomma questo è un oggetto molto più grande molto più a misura d'uomo sarebbe costato una frazione di quanto è costata la stazione spaziale internazionale avremmo avuto 50 anni fa negli anni 70 questa testimonianza che poi la linea dell'evoluzione spaziale non è proprio un progresso ma si va su e giù a seconda del contesto politico ed economico questa è una foto che io feci a Goddard tantissimi anni fa è un manichino questo ma vi dà l'idea di una parte del modulo interno appunto dello Skylab questo è il portellone da tracco verso l'Apollo e il LEM modificato a telescopio solare perché non si butta mai niente ma insomma rispetto alla stazione spaziale internazionale e quella mira c'è tutto un abisso che poi ben vengano perché appunto meglio quello che niente ed è un eccezionale risultato ma fatto con razi molto più piccoli l'ultimo elemento l'attracco tra sistemi differenti queste sono le 75 in piena guerra fredda si stava un po' risgelando la situazione l'attracco tra l'Apollo e la Sayuz o Sayuz Apollo notate che c'è Apollo Sayuz americano ma i russi giustamente dicono Sayuz Apollo con questa adrogenus mating adapter che è un adattatore sviluppato anche per venire in soccorso dell'altra superpotenza nel caso di di incidenti dell'altra superpotenza e quindi questo qui è androgenus perché nessuno dei due voleva essere la parte ricevente dell'attracco ma insomma fu un risultato eccezionale c'era anche Leonov ed era un oggetto grosso e questo era l'Apollo questo è l'adattatore questo qui è la Sayuz di nuovo l'equipaggio americano viveva viveva insomma era in questa zona qui questa è tutta avionica questo è un corridoio essenzialmente e quello sovietico questo è il modulo di rientro e questo è il modulo abitativo ma di nuovo questa è l'avionica facciamo la Mir e la stazione spaziale a questo punto la facciamo domani lanciata nell'86 anche qui vari vari moduli agganciati ma se vedete l'elemento base è questo qui l'elemento della Sayu della Sayu modificato ma è quello che poi sta anche nella stazione spaziale internazionale per chi se la ricorda lanciata nell'86 sopravvista all'Unione Sovietica sopravvista all'incendio è una collisione tra cargo progress contro contro che veniva pilotato da un povero cosmonauta che si vive agli ordini contro uno di questi moduli che si depressurizzò fu chiuso ma insomma fu il punto di partenza per la collaborazione internazionale post-sovietica dentro l'atmosfera nel 2001 quando la stazione spaziale internazionale si cominciava a costruire noi qui abbiamo cominciato a fare i nostri primi lavori sullo studio dei lampi di luce ossia del fatto che i raggi cosmici causano dei fosfeni delle percezioni visive nell'apparato degli astronauti e questo è il secondo SILAI del 97 questo è Sergei Avdiel che si è sulla Mir per tre volte sei mesi sei mesi un anno fu sua l'idea di portare con sé come bagagli a mano questo strumento qui che appunto noi sistemammo e poi vari articoli riuscirono tra cui anche uno su Nature sullo studio appunto dei fosfeni ma ne parliamo un'altra volta Shuttle Mir questo è la collaborazione internazionale lo Shuttle attracca alla Mir vedete che lo Shuttle è molto molto grande ma è una sola perché di nuovo gli astronauti vivono qui e qui e si dovete lanciare i satelliti nel modo peggiore in assoluto ma comunque sia ben venga lo Shuttle attracco alla Mir undici missioni in cui appunto tra l'altro gli Stati Uniti finanziarono l'agenzia spaziale russa che adesso si chiama Roscosmos in maniera da consentire di sopravvivere al crollo sovietico e a mantenere le tecnologie e il know-how perché appunto come si è visto per il Saturno 5 queste cose qui si perdono questo è l'adattatore Shuttle Mir che è lo stesso riutilizzato per la stazione spaziale internazionale e quello che ci ha consentito poi di costruire la stazione spaziale internazionale però che vale la pena raccontare la prossima volta siamo già a 35 minuti vi faccio vedere solo Krister Fuglesang l'astronauta svedese che è il nostro collega che ci collaboriamo insieme e fu sua l'idea perché sentì un seminario di Gerda Hornek alla DLR l'agenzia spaziale tedesca ma parliamo degli inizi anni 90 di ristudiare il fenomeno dei fosfeni dei lampi di luce questo qui è il terzo Silai i primi due sulla mira e il terzo lanciato tra l'altro per chi viene a Torvergata siamo riusciti a farlo tornare a terra grazie ai colleghi sovietici russi di MBP e un rivelatore di particelle di raggi cosmici appunto all'interno del modulo della stazione spaziale internazionale però stazione spaziale internazionale e probabilmente radiazione la faremo domani alle nove e un quarto altrimenti anche questa diventa troppo lunga insomma tanto vale godersi il sabato grazie a chi mi ha seguito online chi mi segue offline su YouTube e a domani ciao buon fine settimana grazie a tutti